Chi ha detto che gli elefanti non sanno giocare a calcio? Non avrà la classe di Messi, la velocità di Bale o il dribbling di Ronaldo, ma questo pachiderma con la palla tra i piedi non se la cava poi così male. Certo, non è ancora un campione, ma con un po' di allenamenti e qualche nocciolina in più potrà diventarlo. Grazie a tutti.